Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Facciamo il punto in questa torrida estate, una calda estate non solo dal punto di vista climatico ma anche considerando l'evolversi delle situazioni relative ad Arcelor Mittal. Intanto un fatto, lo Stato lo prevede il decreto agosto con 470 milioni di euro, entra attraverso la partecipata, la società di Stato in Vitalia, entra in ILVA e quindi supporterà Arcelor Mittal. Intanto il giudizio, la valutazione di questa decisione dello Stato, ormai lo Stato entra in autostrade per l'Italia, entra in Alitalia, è entrato anche in ILVA, però con un partner, diciamocelo, davvero vergognoso, qual è Arcelor Mittal. Ed è questa la cosa che spaventa di più perché tra le ipotesi questa è la peggiore, c'è il partenariato pubblico-privato con il pubblico che ci mette i soldi e il privato continua a fare gli affari suoi. Su questo ci siamo più volte espressi e abbiamo detto chiaramente che non era un'opzione accettabile da mettere sul tavolo. Io spero come dire che poi alla fine prevale il buonsenso e venga allontanato questo soggetto che dal mio punto di vista fino adesso, ma non sono l'unico, grazie a Dio ultimamente negli ultimi mesi lo riconoscono un po' tutti, è un soggetto che non ha fatto assolutamente nulla di quello che aveva sottoscritto nei vari accordi, ma soprattutto continua ad avere un atteggiamento sprezzante in barba al territorio e a tutte le realtà che poi rischiano di soccombere a causa di un atteggiamento che definirei poco normale da parte di una multinazionale. L'aspetto inquietante, forse anche inspiegabile, ma evidentemente una spiegazione c'è, come mai lo Stato sembra servito ad Arcelor Mittal? Perché io potrei capire lo Stato che dice io devo tutelare la siderurgia, devo intervenire, però con un partner diverso, con un partner per bene, tra virgolette. C'è questa sudditanza, questo vassallaggio, questa paura di perdere ad Arcelor Mittal e ad Arcelor Mittal si stendono i tappeti rossi, ci si piega in tutto e per tutto ai suoi diktat. Ma probabilmente ci sono elementi, come dire, a noi sconosciuti che hanno un peso maggiore rispetto alle esigenze di una comunità di quasi mezzo milione di persone, che è la comunità tarantina. Ecco, diciamo che questi sono i momenti in cui ti rendi conto che gli interessi, probabilmente gli altri interessi, prevalgono sulla gente comune e sul bene comune. io non credo che ci sia una sorta di sudditanza. Probabilmente credo che ci sia un atteggiamento che va in linea con quelle che sono delle indicazioni di carattere europeo. Cioè, ragionamento quale? Si tenta di descrivere una storia che non ha senso e non è vera, in cui la parte della vittima la fa Arcelor Mittal, quando in realtà poi Arcelor Mittal è il carnefice. Cioè, ancora oggi sento ragionamenti dei politici di grido di carattere nazionale e anche di alcuni sindacalisti che giustificano l'atteggiamento di Arcelor Mittal rispetto a quella questione dell'immunità penale che non c'entra assolutamente nulla con l'atteggiamento di Arcelor, che tra l'altro è l'atteggiamento di contrasto che è iniziato molto prima della revoca poi dell'immunità penale. Probabilmente, come dire, le pressioni delle lobby sono talmente forti che questo governo in questo momento è impotente rispetto a queste pressioni. Ecco, la cosa che spiace è che quasi quasi fa finta di non vedere quello che accade facendosi trattare, io l'ho sempre detto, diciamo che poi alla fine il messaggio politico che passa è bruttissimo. Si fa passare un messaggio in cui si dice che il comune cittadino deve rispettare da là alla zitta. Se sei una multinazionale, devi chiamarsi Arcelor Mittal e sei gestita da Lucia Morselli, puoi fare di tutto, la politica sarà sempre disponibile a trovare una soluzione che sia a tuo favore. E questo è un messaggio bruttissimo che stanno facendo passare. In più occasioni, anche in un recentissimo incontro con alcune associazioni, il Premier Conte ha evidenziato, a fronte dei guasti, dei disastri ambientali che venivano evidenziati, ha messo in luce i vari interventi previsti dal governo per Taranto attraverso appunto il CIS e il cantiere Taranto e quant'altro. E quindi sempre sciorinare i progetti, i programmi relativi al lungomare, alla facoltà di medicina, all'acquario, a questo e quest'altro, sviando il vero problema, il vero dramma di Arcelor Mittal, dramma vuoi ambientale, vuoi occupazionale. Cioè si usano degli elementi distrattori, diciamo così, rispetto al vero bubone. Ma allora innanzitutto dobbiamo chiarire che sono due ragionamenti completamente distinti e separati. Quello inerente alla questione della fabbrica e quindi i risvolti anche economici ed occupazionali, oltre che del tema centrale che è quello della salute. E poi quelli del progetto Taranto, così detto, che dal mio punto di vista, almeno per quello che ho seguito io fino adesso, è un progetto che è nato dalla spinta soprattutto del sottosegretario Mario Turco. Ecco, la dico così per intenderci bene. È come se Mario Turco da un lato, con le sue funzioni governative, sta tentando di recuperare risorse per mettere in moto piccoli meccanismi, come dire, che possono piano piano riconvertire l'economia, quindi dare più possibilità a questa città. Ma sono interventi completamente slegati rispetto alla questione della fabbrica. Ecco perché noi continuiamo a dire accordo di programma. accordo di programma che deve prevedere, oltre agli interventi che sono già previsti, su cui, come dire, noi siamo assolutamente d'accordo perché se c'è un miglioramento per quanto riguarda la città, ben venga, ci mancheremo. Ben venga, ma ci vuole un intervento shock. Cioè tu non puoi pensare di risolvere il problema con gli interventi che si stanno mettendo in campo, che possono generare qualche centinaia di posti di lavoro, ma qua parliamo di migliaia e migliaia di persone, della salute di centinaia e migliaia di persone. Quindi lì ci vorrebbe l'intervento shock da parte del governo e secondo noi ciò può avvenire facendo una serie di operazioni. Allontanare il privato, subentrare nella gestione statale, programmare la chiusura di quella fabbrica, che al netto di tutti i ragionamenti che possiamo fare è una fabbrica che fra qualche anno chiuderà a prescindere, già fortemente le dimensionate. Ma andare a ricollocare soprattutto i 10.000 dipendenti diretti fra gli 8.200 attuali, i 1.800 di AS e i circa 4.000 dell'appalto. Parliamo di 14.000 persone a cui bisogna dar conto e bisogna trovare una soluzione, che non può essere quella del progetto Taranto, perché ad oggi in tutta noestà è un progetto che serve anche a rilanciare in parte l'economia cittadina, ma non risolve definitivamente il problema dell'ILVA. Quando poi si parla dell'attuale situazione catastrofica di ArcelorMittal, una fabbrica che, ricordiamolo e sottolineamolo fino alla nausea, sta letteralmente collassando, crollando a pezzi, ecco che il governo dice che stiamo puntando alla decarbonizzazione e compare, lo abbiamo già affrontato in una precedente intervista, la questione, il progetto di produzione ad idrogeno. Quindi si dice che questa è la situazione, però non si considera che ove mai questa fantomatica produzione ad idrogeno avvenisse, ma medio tempo retrascorrerebbero altre 15-20 anni. E in 15-20 anni cosa sarà di noi tarantini dal punto di vista ambientale e della fabbrica che a questo punto sarà ridotta in macerie, in crolli su crolli? Solo chissà grazie a quale santo abbiamo evitato e stiamo evitando drammi, incidenti mortali sul lavoro e voi come USB puntualmente documentate i guasti proprio strutturali. Ma l'hai detto tu, è un progetto futuristico, è un progetto che avrebbe avuto un senso se il ragionamento fosse stato fatto all'inizio degli anni 2000. Uno dice guarda, io mi pongo l'obiettivo entro il 2015-2020, devo incominciare a produrre in maniera completamente diversa e quindi avendo un rispetto maggiore per l'ambiente e per la salute dei cittadini. Allora, porle oggi come soluzione del problema ci pone di fronte a due questioni. Uno, il problema orge di una soluzione immediata, non abbiamo 15 o 10, manco 5 anni di tempo. Due, non risolve poi in parte il problema, perché tra l'altro l'idrogeno, ecco, l'abbiamo già detto in altre trasmissioni, non voglio ripetermi, però ad oggi non esistono fabbriche di quelle dimensioni che possono produrre milioni di tonnellate con quel tipo di sistema. Non sono fatte delle sperimentazioni, ma su fabbriche di gran lunga inferiori come portata rispetto a quella di Taranto. Sono ancora in campo delle sperimentazioni. Poi, io la dico così, il governo vorrebbe varare un progetto innovativo che dovrebbe avere uno sbocco nei prossimi 15-20 anni, lo può fare a prescindere dall'Ilva, dall'Ilva attuale. Quindi io dico, interviene immediatamente, mettendo in sicurezza lavoratori e cittadini, trova anche qua le soluzioni. Io apri e chiudo parentesi, pure qua, parlare oggi di alternative per il popolo Ilva, lavoratori che hanno in media 45 anni d'età e 24-25 di contributi, mi sembra anche assurdo. Non siamo più una popolazione di lavoratori, come dire, sotto la soglia dei 30, a cui dici, vabbè, puoi investire in formazione e quindi gli dai un lavoro diverso e lo riconverti. È chiaro che bisogna trovare delle soluzioni, tra l'altro, dal nostro punto di vista, alcuni suggerimenti che abbiamo dato al governo, che possono essere soluzioni che possono quantomeno accompagnarci alla pensione, alla foruscita volontaria incentivata. Cioè un mix di soluzioni che tendono a mettere in sicurezza i lavoratori. Lavorando poi su che cosa? Su una riconversione economica della città, che a mio modesto parere deve obbligatoriamente non passare, ecco, un termine al contrario, dalla produzione di acciaio. Cioè tentiamo per un attimo di fare un investimento che sia diverso rispetto a quello che ha prodotto, purtroppo, tanto occupazione a tardo, ma anche tantissima, purtroppo, percentuale, come dire, di mortalità molto, molto elevate e tantissima disperazione rispetto a tutto quello che la fabbrica ha prodotto in termini di inquinamento e di infortuni sul lavoro. Quindi ci vorrebbe uno scatto d'orgoglio. L'abbiamo detto tante volte, questo governo in questo momento, io non so se ne ha né la capacità né la voglia. Passiamo al dramma dei lavoratori dell'indotto. Ormai la disperazione delle aziende è ormai cronaca quotidiana. Ovviamente tutto un effetto domino e quindi la disperazione dei dipendenti stessi delle aziende, che poi non possono essere ovviamente pagati dalle aziende, e quindi anche un danno per l'economia, perché il dipendente in difficoltà poi non può spendere. Come dire, è un circuito davvero pericoloso che si sta innescando? Siamo terra di conquista, bisogna riconoscere che purtroppo quella fabbrica e la multidazionale sta facendo emergere. Siamo diventati terra di conquista, il gioco è sempre lo stesso, gli uni contro gli altri, non c'è una comunità unita a difesa dei propri interessi, e questo diventa un punto di forza per l'avversario, e probabilmente la scusa che il governo usa nel non intervenire, perché a un certo punto io penso che il governo ha un ragionamento se lo faccia, dice vabbè ma se questi hanno una gran voglia di cambiare o di farsi rispettare farebbero qualche cosa, qua nessuno fa niente e se qualcuno tenta viene pure boicottato, funziona in questa maniera. Sull'appalto il gioco è lo stesso, è lo stesso dei lavoratori ILVA in AS, è lo stesso dei lavoratori Cassi Integrati, l'isolamento. L'operazione che fanno qual è? Sto mese 5, 6, 7, 8 aziende avranno il problema, quelle aziende minacceranno, magari qualcuna di queste farà la protesta, poi avranno il contentino con 4 soldi, riusciranno a pagare a malapena una parte dello stipendio e magari non pagano i fornitori, il mese successivo saranno altre aziende. È il meccanismo degli uni contro gli altri, perché poi scatta un altro principio, come succede tra i lavoratori, è quando mi hanno messo in cassa integrazione, tu che lavoravi non hai fatto niente, quindi io non vedo perché devo reagire adesso che hanno messo in cassa integrazione. Lo stesso sta venendo fra le aziende. Ecco perché dico, non c'è unità di intenti, siamo qua, siamo un giocattolo nelle mani di una multinazionale e nelle mani di una manager che farà storia nei libri di scuola. Un esempio di dittatura, bisognerebbe studiare, analizzare la Morselli come l'antitesi della tutela dei diritti dei lavoratori. Se ci sono i diritti dei lavoratori, la Morselli è l'esatto opposto, è quella che ovviamente calpesta, violenta questi diritti. E evidentemente può darsi anche che sia il suo ruolo sia stata messa lì come tagliatrice di teste, ovviamente sfruttando la sua natura. Si l'aveva, il fatto di calpestare i diritti dei lavoratori è una conseguenza di un atteggiamento che è ancora più grave paradossalmente e che è quell'atteggiamento che comporta poi le continue presi in giro a livello istituzionale. La dico così, l'atteggiamento che l'azienda sta avendo sul territorio tarantino, non prende schiaffi solo i tarantini, prende schiaffi anche la politica nazionale, le istituzioni, perché è chiaro che se tu fai degli accordi, prometti di mantenere gli impegni, dopo una settimana rimetti tutto in gioco e lo schema è sempre lo stesso. Magari non si presenta neanche agli incontri istituzionali la Morselli, proprio a dimostrare come sia sprezzante nei confronti di chi che sia anche delle istituzioni. Sì, l'impressione, io sono io, come diceva Alberto Sordi nel famoso Marchese del Grillo, voi non siete... Ci siamo capiti. Chi ci dovrebbe rappresentare poi a livello politico, come dire, fa fatica a richiamare atteggiamenti consoni la dottoressa Morselli e Arcelor Mittal. Però stiamo parlando, stiamo facendo ragionamenti oramai che vanno avanti da mesi. C'è un dato di fatto, c'è una multinazionale che sta lavorando indisturbata, c'è un Premier che dal mio punto di vista comunque ha difficoltà oggettive nel rispondere alle soluzioni di Taranto e quindi si tenta di barcamenarsi in soluzioni che non sono soluzioni, che sono... Contentini per Taranto? Ma non dico neanche contentini, sono piccoli passi in avanti che la città ha bisogno di fare, perché comunque... Pannicelli caldi, chiamiamoli, ecco. Tra l'altro, dal mio punto di vista non nascono neanche idee del Governo, ma nascono idee di un singolo sottosegretario che probabilmente, come dire, ha preso a cuore la condizione, ha un'idea e sta tentando nel suo piccolo di portarla avanti. Cioè, non c'è quell'azione corale di Governo su Taranto che noi ci saremmo aspettati, perché altrimenti staremmo ragionando di atto, staremmo ragionando di incontri da fare in loco, di una progettazione di una Taranto completamente diversa, a cui ci sarebbe sicuramente voluto 15-20 anni, ma in cui tu avresti messo sul tavolo subito i soldi per fare le operazioni, due, la volontà politica che è la cosa più importante. Ad oggi non ce n'è una o nell'altro. Sono soluzioni di tampone che negli ultimi anni hanno fatto spendere miliardi di euro dietro la questione ILVA, soldi che tra l'altro sono stati intastaccati da questi soggetti, dalle multinazionali, ma non dai lavoratori che sono stati costretti o a vivere in cassa integrazione e in tanti casi, come i lavoratori della PAS, addirittura a rischiare di perdere quel misero stipendio che già percepiscono mensilmente. Passiamo ad un altro argomento, certamente più piacevole. 28, 29 e 30 agosto si celebra la festa di USB, ritorna la festa. Allora, Rizzo, alcune anticipazioni. Immagino che ci saranno i momenti e i motivi di dibattito, di incontro con soggetti istituzionali, ma anche momenti così di svago, di aggregazione sociale. Sì, c'è la sesta edizione quest'anno. Noi, tra l'altro, ci teniamo tantissimo a questa festa che anche con tutte le restrizioni Covid abbiamo deciso di farle, anche perché in un momento così particolare abbiamo tenuto, diciamo, a voler dire ancora una volta la nostra, a mettere soprattutto in risalto quelle che sono le problematiche che ogni giorno si vivono nelle aziende come l'Ilva di Taron, in cui si rischia la vita, ma come in tanti altri posti di lavoro, in cui si rischia la vita ogni giorno. Quindi, l'altro giorno sarà particolare perché avremo anche la musica, però sarà incentrata anche su, soprattutto su altre questioni. Ci saranno i dibattiti politici, io non vi anticipo nulla, però stiamo lavorando per avere degli ospiti d'eccellenza. Qualificati. Sì, molto, molto qualificati. Poi perché, ecco, quello che stiamo tentando di fare da anni è quello di riportare il dibattito pubblico in piazza senza farlo scadere poi nell'offese, nel tifo da stadio. Cioè, quindi, di riuscire ad approcciare ragionamenti anche su posizioni diverse, che possono però poi alla fine, come dire, dare un senso a tutto quello che sta avvenendo e soprattutto buttare magari le basi per fare piccoli passi in avanti per migliorare le condizioni della città. Servono, tra l'altro, questi dibattiti anche a riavvicinare un po' i cittadini al sindacato, alla politica, che vengono visti negli ultimi anni troppo spesso come entità in astratto quasi fossero qualcosa di diverso rispetto alle persone. Io dico sempre che il sindacato è fatto di uomini così come la politica e nei momenti in cui si deroga i lavoratori incominciano a vedere il sindacato come un soggetto a sé stante e lì, come dire, quella è la sconfitta del sindacato. Quindi, diciamo che vogliamo lanciare anche questi messaggi in questa festa sera anche a questo. Gli ospiti, avremo ospiti importanti anche quest'anno. La festa è una festa a tema ma il dibattito centrale sarà su una proposta che l'USB presenterà a livello nazionale sulla introduzione del reato di omicidio sul lavoro che, secondo noi, è un tema che va ripreso e rilanciato rispetto a tutto quello che sta accadendo purtroppo in questo Paese e rispetto, purtroppo, alle tante impunità di cui godono i potenti proprio per rilasciarci al ragionamento di prima. Ecco, vogliamo controbilanciare quell'idea che sta passando negli ultimi anni in cui se hai il potere puoi permetterti anche di decidere la vita degli altri e per produrre un chilo d'acciaio puoi anche rischiare di perdere qualche lavoratore. Noi vogliamo controbilanciare, vogliamo dire alla politica che conta fate delle leggi ma fate la tutela dei lavoratori perché gli imprenditori seri non avranno problemi a rispettarli probabilmente gli speculatori avranno problemi ma perché sono speculatori e devono massimizzare i profitti quindi anche a costo di calpestare il vita umano. Noi da questo punto di vista vogliamo dare l'ennesimo contributo e quindi vi invito tutti, 28, 29 e 30, qui in Piazza Loiucco. A Talsano. A Talsano. A Talsano. A Talsano.